E ragazzi, cioè, partiamo dalle basi, proprio di base, sono più forti, sono nettamente più forti, non si scopre oggi, per carità di Dio, sono nettamente più forti, ci hanno dei giocatori da Champions League, meritano di essere in Champions League, mi giri il cazzo perché Dio Bono davvero si potrebbe essere noi da tanti anni in queste situazioni, invece non ci si riesce mai a essere queste condizioni qui per tanti motivi, mercati sbagliati, gente presa a cazzo di canto, allenatori che magari perdano il capo da un momento all'altro, ci hanno dei giocatori che l'amorosi razzi l'Atalanta, Lukman su tutti è devastante, Reteghi che chiara, ve l'ho detto, che vi ho detto ieri, Reteghi segna, che vi ho detto, c'ho la palla di vetro? No, non c'ho la palla di vetro, basta, perché sia a noi, perché sia a noi. Seconda cosa, la difesa ragazzi è imbarazzante, la difesa di stasera è imbarazzante, 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 Ranieri oggi ha una prestazione da due, da due, da due. Cioè, se te contro l'Atalanta ti presenti con una difesa a tre, Biraghi Braccetto, Ranieri e Quarta, tra i due centrali, vuol dire che ti vuoi veramente male. Cioè, e io continuerò a ripetere, continuerò a ripetere, mi gira il cazzo, mi gira il cazzo, ma un po' godo, un po' godo, perché Milankovic non andava venduto, Milankovic non andava venduto, Milankovic non andava venduto. Perché adesso ti ritrovi senza un riferimento difensivo importante in difesa. Perché Martini e Quarta, lo sappiamo tutti, bravo a segnare, perché anche oggi segna, ma come centrale è mediocre. Ranieri ha le partite in cui gioca bene, ma le partite in cui gioca male è meglio che non ci sia in campo. E poi c'è Biraghi Braccetto, che non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Che guarda, forse oggi, levato il gol di Martini e Quarta a livello difensivo, forse tra i tre è stato anche in meno peggio. Per dire, per dire, la prestazione che hanno fatto tutte e tre, Biraghi Braccetto è stato in meno peggio. È stato in meno peggio. De Gea è male, oggi è male, perché i due gol iniziali non c'è colpe, sui terzi lo potevi tranquillamente parare, era lì sul primo palo, era ovvio te lo tirare sul primo palo, però va bene. Lasciamo perdere, ci sta comunque, io ve l'ho detto, perdere a Bergamo con l'Atalanta ci sta clamorosamente. Cioè nel senso, te sei una squadra che ancora deve ritrovare un'identità, loro giocano insieme da dieci anni, praticamente sempre soliti, cambiano due o tre elementi tutti gli anni, ma poi più o meno la struttura della squadra è sempre la stessa, idem l'ho allenato, perché alla fine l'è quello che fa la squadra. E poi per il resto diciamo che in attacco, ragazzi, fortunatamente, forse, continuiamo a ripetere ogni settimana, sei trovato l'attaccante, forse sei trovato l'attaccante, perché Moise Henn, anche lì, oggi in attacco devastante, 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 Ian non l'ha mai preso, Ian, ragazzi, è stato, è dovuto uscire dal campo, perché non l'ha mai preso. Poi chiaramente nel secondo tempo, diciamo entrambe le squadre, soprattutto l'Atalanta, un pochino dietro si è più ricompattato con il cambio, è entrato James City, cazzo è entrato. A tenere Moise Henn, l'unica cosa, ragazzi, allora, il 3-5-2 oggi mi è piaciuto come idea, perché effettivamente mettere tre centrocampisti come Mandragora, Cataldi e Bovet ha dato più compattezza nel centrocampo, soprattutto nel primo tempo si è vista tanto questa cosa, mi è piaciuta come idea. Allora, la seconda punta, ragazzi, oh ma la seconda punta, ma io vi ripeto, ragazzi, ma Colpani, ma Colpani, ma Colpani, cosa sta facendo Colpani? Colpani non la sta facendo, per carità di Dio, può entrare, Eone è anche peggio, però sappiamo perlomeno Eone, Colpani l'abbiamo preso apposta, Colpani? Sveglia? Ehi? Ma ci sei? Cioè sei te? Non è possibile, non è lui, ragazzi, non c'è verso, non c'è verso. Oggi poi tutte le scuse di mondo, perché poi fisicamente l'Atalanta è cento volte superiore a Colpani, quindi fisicamente ha sofferto tanto, però vi ripeto, cioè nel senso anche i tiri che faceva, loffi, veramente tutti sbucciati, cioè proprio una merda all'amorosa. Le cose positive, perlomeno oltre all'attaccante, sono anche gli esterni, perché Dodò e Gosens, porca puttana che batterie di esterni clamorosa, perché Dodò, ragazzi, Dodò è un treno, sembra davvero di vedere a tratti, senza fare paragoni troppo lontani, ma li fa lo stesso il pendolino ha fu. E dall'altra parte Gosens, ragazzi, che c'ha degli inserimenti e dovrebbe farli colpani, dovrebbe farli colpani, e invece c'ha degli inserimenti clamorosi, clamorosi, ormai è padrone di quel ruolo in una maniera devastante. Chiaramente dopo sette, otto anni, non so quanto ha fatto, di Atalanta, che ha fatto tutti gli anni, sempre, questo ruolo qui, chiaramente lo ha imparato a memoria. Però, effettivamente, tra lui e Parisi, non è che ci passa un mare, ci passa un oceano, eh. Ci passa veramente un oceano. Non mi incazzo nemmeno più di tanto, ragazzi, perché tanto io sapevo che si sarebbe perso. Mi gira il cazzo più che altro perché, davvero, in un minuto, in un minuto, in un minuto, stavi vincendo e in un minuto hai perso. Sembra davvero la partita del Lecce dell'anno scorso, dove in un minuto stavi vincendo. Lì era peggio, forse, perché al novantesimo. Al novantesimo peggio, perché al novantesimo stavi vincendo 2-1 e hai perso 3-2. Peccato. Peccato perché stavi... Hai fatto un grandissimo primo tempo, anche meglio dell'Atalanta. L'Atalanta ha fatto tre folate offensive, tre gol. Le grandi squadre fanno così, e siamo d'accordo. Però te nel primo tempo avevi giocato anche meglio dell'Atalanta. Nel secondo tempo non sei rientrato a me. Nel primo tempo l'Atalanta ti ha preso le misure, ha fatto due o tre cambi, da lì non c'è stata più partita. Anzi, non ti hanno fatto anche il quarto e il quinto gol, perché alla fine poi, chiaramente, nei minuti finali tu ti scopri per cercare di andare a recuperare la partita, ma ormai non era più recuperabile. Peccato, perché davvero, cioè, io... bastava veramente poco. Però, perlomeno, diciamo che Palladino ci ha fatto vedere qualche cosa stasera. Io sono contento, perlomeno, per quello. Oltre alle varie conferme in campo, almeno anche l'allenatore mi ha fatto vedere qualcosa. Mi ha fatto vedere qualcosa, perché rispetto alle prime partite della... Insomma, che ti ha fatto fino adesso, prima della sosta, se ti avessi giocato come ti ha giocato con il Venezia, se ti avessi giocato come ti ha giocato con il Monza, oggi ne pigliavi quattro, cinque, sei. Cioè, ogni volta che l'Atalanta andava avanti, prendevi gol, che nel primo tempo è successo così, eh. Successo così. Però, nel secondo tempo, tra un po' di culo e un po' perché l'Atalanta ha sprecato tante occasioni, qualche cosa hai fermato te, però sei stato anche fortunato sotto sto punto di vista, perché, vi ripeto, poteva tranquillamente finire nel secondo tempo, soprattutto con un risultato molto più ampio. Peccato, ragazzi. Però, questo volevo vedere. Almeno so che la prossima settimana che abbiamo la Lazio in casa sono sicuro di poter vedere una Fiorentina diversa, abbiamo visto fino ad adesso. Questa è la Fiorentina che voglio vedere. Questa garra, questa voglia, che nel secondo tempo è un po' mancata, eh. Devo essere onesto, nel secondo tempo è un po' mancata. Però, comunque, almeno io ho visto qualcosa. Ho visto finalmente qualcosa. Ho visto finalmente qualcosa. Lasciamo cucinare Palladino, ragazzi. Lasciamolo cucinare. Perché, effettivamente, abbiamo visto una bella partita. Stasera abbiamo visto una bella partita. Non ci si può lamentare, con tutti i nostri limiti, perché, alla fine, tutti i gol che si sono presi, oltre che l'avversario è nettamente più forte di noi, è perché ci sa tantissimi limiti, soprattutto nella fase difensiva, che va migliorata. Va migliorata. E, vi ripeto, non è che va migliorata, tipo, solo perché manca Milenkovic, ma in generale. In generale. Perché, per ora, male tutti. Vi ripeto, il meglio che vi avevo detto nei video scorsi, il meglio che si è visto in queste prime giornate, tra campionato e conference, il meglio della difesa che si è visto è un 2005 della primavera, che è Comuzzo. Il meglio tra rendimento, in difesa e solidità è stato Comuzzo. Comuzzo. Che io spero diventi fortissimo e che lo facciano giocare, che Palladino lo faccia giocare a titolare, d'ora in poi. Perché Comuzzo ti fa capire che Martino e Squarta, Ranieri e Biraghi, difensivamente parlando, fanno cacare. Fanno cacare. Ovvio. Fatemi sapere la vostra sotto in un momento, ragazzi, sempre forse al violo. Domani live reaction, ve la faccio uscire comunque a un'ora decente. E niente, poi magari in settimana si parla un pochino, voglio fare un video dedicato un po' a questa situazione Palladino, situazione Gudmundson anche in generale, perché sempre con lo stesso discorso, oggi fosse stato Gudmundson coissendo di poi il posto di Colpani, magari sarebbe stata una partita un pochino diversa, soprattutto perché, vi ripeto, deve mancare riferimento nella tre quarti, però, vabbè. Ciao ragazzi.